Papa Pasquale, che regnò dall'817 all'824, oltre a tentare di mantenere i delicati equilibri tra impero retto dai carolingi e papato, si diede molto da fare nel suo settennato nel recupero delle reliquie di santi e martiri sparsi nelle catacombe, nonché a un'intensa attività urbana che lo portò a una ristrutturazione totale di almeno tre chiese, tanto da meritare di essere citato nel Liber Pontificalis come cultore, restauratore e adornatore di ogni chiesa di Dio. Narra la leggenda che il Papa, durante la celebrazione del Mattudino, una domenica mattina all'alba, a una botta di cecagna, tradotta in italiano un colpo di sonno, e in quel momento gli appare la martire Sicilia, che gli indica il luogo presso le catacombe di San Callisto, dove giacciono le sue spoglie, che ritrovate miracolosamente, pressoché intatte, vengono seppellite nella chiesa a lei dedicata, che secondo la tradizione era lo stesso luogo dove sorgeva la casa della santa, trasformata in ecclesia domestica e in seguito in chiesa, di cui si accenno già nel 545 in occasione dell'arresto di Papa Vigilio da parte dei bizantini. Di certo, in quel punto esisteva un'abitazione già databile intorno alla metà del II secolo a.C. in età repubblicana. Nel corso dei secoli ci sono stati ripetuti e pesanti interventi nella struttura dell'edificio, dovuti al trascorrere del tempo, alla violenza della natura che nel 1703 aveva provocato un forte terremoto e all'ansia di rinnovamento da parte dell'uomo. La grandiosa struttura esterna, come ci appare oggi, è anche se non documentalmente provata attribuita a Ferdinando Fuga, fiorentino, l'architetto di fiducia del conterraneo Papa Clemente XII, nato Lorenzo Corsini, che la realizza intorno al 1742, committente il cardinale Troiano Acquaviva d'Aragona, che a dispetto del nome è napoletano. Suo è lo stemmaraldico. Entrando nell'ampio cortile fiancheggiato da due monasteri femminili e superato il cantaro romano sistemato nella fontana, possiamo osservare la severa facciata settecentesca, comparandola con una stampa di fine Cinquecento, che sostanzialmente manteneva l'aspetto voluto da Papa Pasquale II all'inizio del XII secolo, in cui è evidente la scomparsa dei due rosoni, la trasformazione delle finestre, l'aggiunta di una balaustra con sei torci di travertino, l'innalzamento dell'architrave per far posta all'iscrizione che indica il committente, sempre un'acqua viva. Francesco, zio di Troiano, che aveva provveduto alla sistemazione degli interi della chiesa intorno al 1724, mentre viene mantenuta nella trabeazione la fascia musiva del XII secolo, con le figie sopra i capitelli dei Santi Cecilia, Tiburzio, Lucio, Agata e Urbano. Appare che nel restauro sia stata persa o trasformata quella di San Valeriano, il marito di Cecilia, che così appare due volte. Sempre dello stesso secolo, il campanile. Nel portico interessanti sono una lastra dell'epoca di Vespasiano, un cippo del pomerio urbano, lo spazio sacro che delimitava le mura all'interno e all'esterno, alcune lastre tombali, probabilmente quattrocentesche, tra cui una certa Madonna Dorotea da Vercelli e il secentesco monumento funebre del cardinale Sfondrati milanese, opera in bilico tra lo stile tardomanierista e l'invenzione barocca. Autore del progetto potrebbe essere Girolamo Reinaldi, romano, mentre lo scultore o scalpellino che dir si voglia è Clemente Gargiolico, adiuvato forse da Angelo di Pellegrino. Ai lati, in basso, Sant'Agnese a sinistra e Santa Cecilia a destra suddividono in tre parti l'opera in marmo poligromo, che originariamente era situato nella navata destra della chiesa, ma in seguito nel 1955 ne fu deciso lo spostamento all'esterno, con conseguente deterioramento del monumento concepito per un interno. Nel culmine un basso rilievo ricorda il ritrovamento del corpo di Santa Cecilia dove la messa Papa Pasquale avvenuto secondo le cronache il 20 ottobre del 1599. Entrando nella chiesa si rimane all'inizio un po' delusi. L'impianto settecentesco opera degli architetti Domenico Paradisi e Luigi Barattone, i pilastri ottocenteschi che hanno inghiottito le antiche colonne, hanno cancellato quasi ogni traccia dell'antica chiesa. Tuttavia procediamo fiduciosi alla scoperta dei capolavori che la chiesa ha conservato nei secoli. La volta dell'ingresso è affrescata sotto l'impulso del giubileo del 1600 e sono attribuibili a pittori minori come Fabrizio Parmigiano o Marzio di Colantone, individuato come Marzio Ganassini, dei quali parla Giovanni Baglione nelle sue vite. Due tombe quattrocentesche, sfrattate dalla posizione originale e qui ricomposte con qualche rilevante modifica, rispettivamente dei cardinali Adam Heston, inglese, a sinistra, il quale ebbe qualche problema a seguito di una congiura contro Papa Urbano VI, e Niccolò Forteguerri, pistoiese, opera quest'ultima attribuita a Mino da Fiesole. Nel soffitto ligno della navata centrale troviamo invece un affresco del 1724 circa, il trionfo di Santa Cecilia di Sebastiano Conca da Gaeta, con il classico organo come attributo iconografico, che pare sia un'interpretazione letterale di un'antifona, il canto introduttivo della Messa nella Festa della Santa, che iniziava con Cantantibus Organis, dove per Organis si potrebbe intendere genericamente gli strumenti musicali. Ma c'è anche chi mette in dubbio quest'ipotesi, sostenendo che nei codici antichi l'antifona iniziasse con Cantantibus Organis, vale a dire strumenti di tortura incandescenti. Tuttavia è prevalsa la prima ipotesi e la Santa è diventata così padrona dei musicisti, costretta a portarsi dietro l'ingombrante strumento, tanto che entrando non è raro essere accolti dal suono di un organo. Le cappelle, presenti solo nel lato della navata destra, risentono dei vari interventi effettuati nel corso dei secoli. La prima della crocifissione risale al Seicento, mentre la pala d'altare è un affresco trecentesco. Subito dopo, ben inserrata, la cappella di Santa Cecilia, con due opere all'interno di Guidoreni, che non vi posso mostrare, mentre il basso rilievo viene attribuito alla scuola di Mino da Fiesole e il cinquecentesco San Sebastiano in fondo allo scultore fiorentino Lorenzo Lotti, detto Lorenzetto, allievo di Raffaello. Gli affreschi laterali sono del fiammingo Pau Bril, nato ad Anversa e morto a Roma, e rappresentano scene di paesaggi con santi eremiti, mentre alla sua bottega dovrebbero riferirsi le decorazioni della volta e del soffitto dove viene tracciata la vita di Cecilia. Il tutto fa parte della risistemazione voluta dal cardinal Sfondrati. A seguire, la cappella detta dei Ponziani, che la utilizzarono come sacello di famiglia. L'importanza della cappella si riduce essenzialmente a due motivi. Quello storico, perché uno dei Ponziani, Lorenzo, sposò Santa Francesca Romana, è quello artistico per essere l'unico elemento rinascimentale sopravvissuto, databile a fine Quattrocento. Gli affreschi sono attribuiti ad Antonio del Massaro, viterbese, detto il pastura, anche se si fa il nome del pinturicchio e della sua bottega. Separa la cappella successiva un San Benedetto, tela di Giuseppe Ghezzi, marchigiano, padre e figlio, pittori, dipinta nel 1676 circa. Ed eccoci alla cappella delle reliquie, così come viene ristrutturata nel 1723. Il progetto è affidato a Luigi Van Vittel, nato Van Vittel, da famiglia olandese, ma a Napoli, che, caso unico sopravvissuto a Roma, dipinge un olio con Santa Cecilia e San Valeriano, e affresca la volta con una gloria di angeli in cui si intravede l'influenza di Sebastiano Conca. I finti stucchi e le architetture sono di Pietro Galli, mentre Putti e Festoni sono di Pietro Paolo Scenni, pittori poco conosciuti. Una tela di attribuzione incerta, adattabile al periodo degli interventi del cardinale Sfondrate a cavallo tra 500 e 600, mostra una Maria Maddalena, e separa l'ultima cappella, quella del cardinale Mariano Rampolla del Tindaro, che, come il nome evoca, è nobile e siciliano, morto nel 1913 dopo aver sfiorato il soglio papale. L'opera di Enrico Quattrini da Colle Valenza a Umbro mostra il cardinale che osserva il modellino della cripta della chiesa, completamente rifatta per volere del Rampolla stesso. In Fonda la Navata, un interessante frammento di affresco di scuola romana, risalente pare al XIII secolo, con l'apparizione della Santa Pasquale I e la deposizione della stessa nella chiesa. Il frammento, originariamente nel portico, fu portato qui nel 1785 a cura di Giuseppe e Mariano Partenio, che curiosamente era lo pseudonimo di un erudito gesuita che di nome faceva Mazzolari. La Navata di sinistra non presenta cappelle, ma alcuni altari sormontati da tele. Questa, del 1601, che chiude la Navata, rappresenta i Santi Pietro e Paolo, ed è di Giovanni Baglione, pittore che qui risente dell'influenza del Caravaggio, da cui fu spesso ricoperto di insulti, come in una poesia satirica, dove lo chiama poco elegantemente Jean Coglion, con conseguenti strascichi giudiziari. D'altronde, mettendo a confronto il Sant'Andrea del Baglione, presente nella chiesa stessa, con il San Matteo di San Luigi dei Francesi del Caravaggio, nasce, come dire, un qualche sospetto di plagio. Altre due tele completano i restanti altari, una di anonimo di fine Cinquecento, che rappresenta Sant'Agata, e l'altra, realizzata nel 1676 e firmata da Giuseppe Ghezzi, dedicata ai Santi Lorenzo e Stefano. Mentre due tombe completano la Navata, una del cardinale Giacomo Luigi Brignole del 1855, opera del Ligure Salvatore Revelli, e l'altra di incerta attribuzione, c'è chi dice Gregorio Mangone da Caravaggio, chilti cinese Guglielmo della Porta, nell'anno 1538 del vescovo Gregorio Magallotti, governatore di Roma, ricordato da Benvenuto Cellini, per certi sua birreschi atti e parole, e qui sepolto, nonostante morisse a Bologna, per volontà della sorella Maura, badessa del convento adecente la Chiesa. Così concludiamo la prima parte della nostra visita, e lasciamo alla prossima puntata i quattro motivi per cui dal punto di vista storico e artistico vale la pena entrare nella Chiesa, cioè l'abside, il ciborio di Arnolfo di Cambio, i frammenti del giudizio universale di Pietro Cavallini e la Santa Cecilia di Stefano Maderno. Un saluto, David Labda. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.